Come ogni estate si ripropone il problema della carenza sangue negli ospedali della provincia di Salerno che quotidianamente denotano questa problematica. Da qui l'appello del presidente dell'Avis di Agropoli, Rosario Capozzolo, ai donatori di sangue. Prima di andare in vacanza cerchiamo di dare una speranza a chi ne ha bisogno. Io sono qui di nuovo perché stiamo attraversando, come tutte le estate, si verifica questa carenza di sangue, questa emergenza di sangue. Questa mattina a casa mi è arrivata una comunicazione dal Ruggi di Salerno dove hanno sospeso tutti gli interventi e cercano di mantenere l'emergenza perché c'è una carenza proprio grave di sangue. E' un appello ai nostri donatori se possono fare questo sforzo in questo momento così difficile perché, come dico sempre io, i malati non vanno in vacanza, stanno lì e oltretutto in questo periodo si aggiungono le emergenze, la nostra zona si riempie di turisti per fortuna, quest'anno sembra che si ritorna alla normalità, però il nostro problema è sempre quello, di far fronte alle emergenti degli ospedali che quotidianamente denotano questa carenza di sangue. Come dico, il sangue è un medicinale che non si produce in laboratorio, ce l'abbiamo solo noi. Il mio appello è quello di avvicinarvi, ritornare, prima di partire per le vacanze, di venire a donare, ovunque voi siate che state partendo per le vacanze, di venire a donare perché ce n'è veramente bisogno. Domenica 4 abbiamo una raccolta a San Manco, Piemonte, una a Battipà, a Montecorvino, Pugliano e una in sede qua. Oltre ad avere problemi di personale, però il problema più grande è quello di donatore. Io vi rinnovo l'appello, vi prego di compiere questo sforzo e cerchiamo di dare speranza a chi ne ha bisogno. che purtroppo ce n'è sempre bisogno. Le raccolte, come sempre, sono dalle 8 a mezzogiorno. Stiamo cercando di anticipare un po' perché comincia a fare tantissimo, è abbastanza caldo, per cui quando si arriva in un certo orario è molto più difficile stare nelle autoemoteche. per cui noi cerchiamo di essere sul posto verso le 7 e mezza. Prima lo facciamo e meglio è. Come ho detto, domenica 4 abbiamo queste tre raccolte. In sede ci siamo tutti lunedì e giovedì, la prima e la terza domenica. Le altre domeniche siamo in giro per il Cilento e anche fuori. Vi saluto e vi auguro buone vacanze e divertitevi. Ne avete bisogno dopo un anno di lavoro, però pensiamo anche a chi meno fortunato di noi.